ciao barbie family e bentornati in un nuovo video ma io siamo al contrario perché siamo al contrario? io dico che di seri tu sono io seduto al terzo posto ah tu sei? eh vabbè fa niente dai allora è un video un po così è giusto per madonna mia siamo andati in piscina in piscina allora lei si è addormentata sotto il sole in piscina sul materazzino allora ieri è venuta nonna lucia che è qua dietro alle quinte fai ciao con la manina almeno dai così vedi questa è la sua manina e il telefono è il sole il telefono esploderà a momenti ok allora mettiamoci così allora c'è bicicletta poste italia allora e ha portato un ha portato si perché è una scatola però un bel tostapane si la nonna Elena la mia nonna Elena ciao nonna ok di sicuro guarderà questo video si la nonna Elena guarda video ma non parli ti hanno mangiato la lingua via comunque mi ha regalato un bel tostapane il tostapane e due pinze in acciaio non è vero ma non è vero cosa sta dicendo ciao nonna almeno salutabile accortezza di salutarti allora mia nonna anche lei fa i lavoretti ecco da chi ho preso unboxeremo questo ci ha regalato ci ha fatto la fatti lei ecco le sue manine i gattini mia tu cosa c'hai ah questa è una gallina cocodè ma questo è il tappo del nostro matrimonio e questa è la se la vostra è lo spank e come dicendo nella scatola questa era la bomboniera di quando ci siamo sposati papi luca però le foto voglio farla vedere dai dammi qua guarda cioè dai la nonna si fa i selfie va in giro per il giardino così a farsi i selfie va bene questa è la bomboniera era quella di Alessia al battesimo di Alessia è lo spank perché io sono la bambinona quindi poi dentro ecco qua cosa ha costruito nonna Elena le seggie con le mollette e dentro ci sono le foto di mio papà ce ne sono tre ha messo la foto sulla seggiolina così ok e ce ne ha fatte tre guardate quanto sono carine adesso ci proveremo a sederci anche Barbie così certo lo portate e qua c'è il fiore che ha incollato no non è incollato si si ah no no è infilato è infilato vabbè lasciamolo infilato ha infilato un fiorellino cos'è questo? cos'è? la B di bellotta ha fatto la B di bellotta vabbè vediamolo la scatola per favores allora io direi di mettere tutto uno uno qua adesso la metterò così forse qua nel portofoglio proviamo a sederci i Barbie che io ho detto alla nonna di farmene però beh voglio provare a rifarle io fare il tutorial che ne pensate? se vabbè ma se le modifica da 60 anni a 10 anni dai vedami qua ma per favore se tira tutta la pelle vabbè che ne dite se io compro le mollette e lo ripropongo in un tutorial la sedia con le mollette di legno vi piace come idea? ok andiamo proviamo a sedere Giada cosa c'è Giada? cosa c'è Giada? te poviti ma Simona dove sei? non ci sei più molto molto un trono altro che guardate che bella nonna grazie molto 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 bella eh ma guarda ti piace? e dillo ma non lo so io un tuo risponso almeno sì no parla parla perché non parli? vabbè io direi che sta molto bene tira sulla nostra Nicole eh direi che stanno molto bene per Barbie ops ecco allora fatemi sapere giù nei commenti se vi piace l'idea che provo a riproporlo guarda sta bene anche guardate anche con le gambe si è vero? se lo ripropongo in un tutorial la sedia con le mollette se vi piace come idea bene niente detto questo io vi saluto vi do buonanotte vi saluto vi mando un bacione e andiamo a lavarci perché perché è anche ora di lavarci Simona con un coso nero qua vi saluta penso mamma mia che schifo hai un capperotto formato pelucchio vabbè come nera oh dai cos'è questa cosa che fai? guarda ho preso il sole dai perché la nonna ha portato cosa ha portato? acqua solare l'ha portata ieri è già finita è già finita è già finita ma l'ho usata tutta io no anche la nonna no 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 è abbronzante quindi mi sono abbronzata c'è la volmica bene perché la nonna si è abbronzata in un giorno lei vabbè lei è una lucertula non so brutta bene è più nera di te è più nera di te la nonna saluti anche tu con le tue ciglia dai saluti cosa fai saluti? ma non ti vede nessuno da la? cioè lei saluta così dal dietro ma che senso ha salutare dietro ma chi ti vede la? ma insomma forse le sentirete tutti i suoi respiri ci sei? è lì che se la sta schiattando da ridere dietro alle quinte almeno di ciao io capirò tutto quando mia mamma mi fa dai saluta nonna pettiniamoci i capelli tutorial come pettinare i capelli massaggiamo i capelli di ciao dai ciao ma si tanto non lo vedrà nessuno questo video ma che pizza ma perché hai così vergogna ma perché lo vede qualcuno? che conosci? e allora tanto non ti conosce nessuno va bene amici ciao guardin gotta guardin cos'è volato nel mio bagno pistrelo pistrelo guardin cos'è volato nel mio bagno pistrelo è qua pistrelo pistrelo ciao Grazie.